Soltanto una vittoria in nove partite. Questo è il magro bottino del Liverpool in campionato, una serie di risultati negativi che ha cominciato a far vacillare la panchina di una leggenda dei Reds come Kenny Douglas. Martedì l'allenatore scozzese farà visita al Blackburn, club che guidò al titolo nel 95, ma che ha un disperato bisogno di punti salvezza. Contro la Stone Villa lo scorso weekend ci ha pensato Luis Suarez a strappare un pareggio e a mettere fine alla striscia di tre sconfitte consecutive, ma col Blackburn sarà vietato sbagliare. Il Liverpool dovrà fare a meno in porta di Pepe Reina, al suo posto giocherà l'ex romanista Doni, tornerà in difesa Hager che sostituirà Carragher, restano in dubbio Kelly e Johnson. Negli ultimi due confronti diretti a Ewood Park fu il Blackburn a prevalere, ma nelle ultime tre partite ha sempre perso. Gli uomini di Steve Keen devono cercare di vincere per uscire dalla zona retrocessione, ma dovranno rinunciare all'attaccante Modest.